Aloysse Rebula, Notturno sull'Isonzo. Con una voce sobria Florian riprese, essere fedeli a Dio significa essere fedeli al ruolo che lui ci ha segnato per la vita. Carsolino, per te la fedeltà al tuo carso, alla sua terra, al messaggio di questa terra, al suo stile di vita, alla sua lingua. Beh, queste parole ci introducono al tema di questo romanzo. È un romanzo che Rebula dedica a tutti i sacerdoti di questa terra martoriata che dapprima con i fascisti in Italia e poi conobbe il totalitarismo dell'ex Jugoslavia e la loro testimonianza fu una testimonianza molto difficile, molto sofferta, pagarono moltissimi con la vita. Notturno sull'Isonzo, un notturno perché queste pagine sono pagine ben scolpite nella storia di questo popolo. Questo popolo che vide morire molti sacerdoti che vollero testimoniare ed essere vicini alla popolazione in quegli anni così bui, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale e negli anni immediatamente successivi. Sacerdoti che conobbero davvero la crudeltà del regime totalitarista di Tito e che vollero, e sottolineo, vollero pagare con la vita la loro fedeltà a Cristo.